Con Andrea Vannucci, Assessore allo Sport del Comune di Firenze, è un giorno importante per Vannucci Assessore, ma per Vannucci appassionato del pallacanestro, il giorno della presentazione della Fiorentina Basket. Assolutamente sì, l'augurio è che questo giorno diventi un giorno storico per il basket a Firenze, parte un progetto nuovo, parte un progetto ambizioso che mette la palla spicchi al centro e mette la città di Firenze al centro. Oggi è il giorno in cui questa nuova società, questo nuovo progetto si è presentato alla città, c'è molta curiosità, c'è molta voglia di basket in questa città che è stato dimostrato in varie occasioni. C'è molta voglia anche di questa nuova società, di questo nuovo progetto di entrare in contatto, questo è emerso chiaramente dalle parole sia del Presidente sia del General Manager, di entrare in contatto e stringere legami forti proprio con quelle energie vitali per il basket cittadino. Sabato comincia l'avventura contro Padova, magari un salto e un invito a tutti, anche per curiosità, per vedere la prima della Fiorentina può essere fatto? Assolutamente sì, compatibilmente con la mia presenza al carro matto, perché adesso ho anche la delega delle tradizioni popolari, farò sicuramente un salto a San Marcellino per essere sugli spalti e per fare il tifo, non è un segreto, sono un grande appassionato di pallacanestro e quindi rivedere un campionato nazionale di pallacanestro a Firenze è sicuramente una bellissima notizia per la città.